Foglietto illustrativo dei farmaci, app dell'Agenzia Italiana del Farmaco sui medicinali. Benvenuti o bentornati sul canale di nutrizione per la salute, sono il dottor Oricchio Gennaro, biologo nutrizionista. AIFA mette a disposizione l'app per dispositivi mobili AIFA medicinali, sviluppata per offrire al cittadino uno strumento pratico e immediato per ottenere informazioni, gestire promemorie e ricevere notifiche sui farmaci in uso. Attraverso l'app è possibile accedere direttamente alla banca date dei medicinali commercializzati in Italia e consultare il foglietto illustrativo, essere aggiornati sui medicinali su eventuali carenze, tenere sotto controllo la scadenza delle confezioni e lo stato di commercializzazione dei medicinali. L'app è disponibile sia sull'App Store che sul Play Store. Tutti i farmaci in commercio. Nell'app è possibile effettuare la ricerca dei medicinali di tuo interesse e consultare il foglietto illustrativo. Puoi creare promemoria per i tuoi medicinali, aggiungi i farmaci al tuo armadietto, è possibile creare un proprio armadietto. Ovviamente le notizie salvate nell'armadietto, archiviate nell'armadietto, vengono conservate soltanto sul proprio dispositivo, sul proprio iPhone. Ed è possibile impostare in un promemoria la data di scadenza della confezione. Quest'app AIFA medicinali consente di rimanere sempre informato, attivando le notifiche, è possibile essere aggiornato sulla disponibilità dei farmaci in commercio, su nuove versioni dell'app e su molto altro. Quindi conviene attivare le notifiche. La ricerca del farmaco è possibile sia per nome commerciale che per principio attivo e che poi è possibile aggiungere al proprio armadietto. Una volta selezionato il farmaco, come vedete, è possibile consultare il foglio illustrativo, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e poi aggiungerlo al proprio armadietto. se è un farmaco cronico oppure di uso ricorrente. È possibile inserire anche i dati della propria tessera sanitaria. Veniamo al foglietto illustrativo dei farmaci, perché è importante leggere il foglietto illustrativo dei farmaci e attraverso l'app che abbiamo visto messa a disposizione dall'Agenzia Italiana del Farmaco rende il compito più agevole. Leggere il foglietto illustrativo dei farmaci è un passo cruciale per prendere decisioni informate sulla propria salute e garantire l'uso sicuro e appropriato dei medicinali. Consente ai pazienti di essere più coinvolti e responsabili nel proprio percorso di cura, aumentando l'efficacia del trattamento e riducendo i rischi associati. 1. Comprensione dell'azione del farmaco Il foglietto illustrativo fornisce informazioni dettagliate sull'azione del farmaco nel corpo. Ad esempio, per i farmaci per il colesterolo, spiega come agiscono per ridurre i livelli del colesterolo nel sangue, aiutando così a prevenire malattie cardiovascolari. 2. Effetti collaterali e controindicazioni Ogni medicinale posta con sé il rischio di effetti collaterali e interazioni indesiderate. Il foglietto illustrativo elenca questi potenziali effetti collaterali e fornisce indicazioni su cosa fare nel caso in cui si verificano. I farmaci per il colesterolo, ad esempio, hanno alcuni effetti collaterali comuni che possono includere dolori muscolari, disturbi gastrointestinali e un aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, i livelli di zucchero nel sangue è disponibile una meta-analisi su PubMed, un articolo gratuito dal titolo Effetti della terapia con statine sul controllo glicemico e sulla resistenza all'insulina. Una revisione sistematica e una meta-analisi. Qui trovate il link alla pubblicazione dell'articolo. La conclusione dell'articolo riporta che le statine aumentano leggermente, ma significativamente, gli indici di diabete in soggetti con controllo glicemico adeguato alterato. L'effetto diabetogeno non sembra essere influenzato dal tipo o dal dosaggio della statina prescritta. Questo è l'articolo. Se vi interessa approfondire questo tipo di argomento sul meccanismo d'azione delle statine, su come arrivare alla terapia con le statine, è possibile fare un video di approfondimento. Sul mio canale trovate dei video, dei contenuti sul colesterolo, che cos'è e come è possibile, attraverso la dieta, effettuare un controllo del colesterolo. Terzo punto. Interazione con altri farmaci e sostanze. È fondamentale essere consapevoli delle possibili interazioni tra il farmaco prescritto e altri medicinali o integratori alimentari che si stanno assumendo. Il foglietto illustrativo fornisce informazioni dettagliate su queste interazioni e consiglia su come evitarle o gestirle in modo sicuro. Quarto punto. Modalità di assunzione. Ogni farmaco ha modalità specifiche di assunzione che devono essere eseguite per garantire la massima efficacia e sicurezza. Il foglietto illustrativo fornisce istruzioni dettagliate su come prendere il farmaco correttamente, inclusa la dose consigliata e il momento dell'assunzione. Quinto punto. Conservazione e scadenza. Il foglietto illustrativo spiega come conservare correttamente il farmaco e fino a quando può essere utilizzato in sicurezza dopo l'apertura o dalla produzione. Una corretta conservazione mantiene l'efficacia del farmaco e previene danni. Sesto punto. Cosa fare in caso di problemi? Il foglietto illustrativo offre consigli su cosa fare in caso di mancata assunzione di una dose o cosa evitare mentre si assume il farmaco. Queste istruzioni possono aiutare a gestire piccoli errori nel regime di trattamento senza complicazioni. Conclusione. Consultare sempre il proprio medico in caso di domande o preoccupazioni. Ricordo che la prescrizione dei farmaci è appannaggio esclusivo dei medici e non esitare a cercare ulteriori informazioni presso fonti affidabili. Con la conoscenza e la consapevolezza possiamo prendere decisioni informate per il nostro benessere e la nostra salute a lungo termine. Disclaimer. Gli articoli e i contenuti gratuiti forniti sono destinati esclusivamente a scopo informativo ed educativo. Non intendono sostituirsi alla consulenza del medico o del biologo nutrizionista. Grazie per l'attenzione.